Il PM Andrea Claudiani, titolare del filone d'inchiesta relativo al caso Multiservizi, ha depositato nella giornata di oggi le carte sulle indagini, dopo il ricorso presentato dall'avvocato Roberto Alboni al Tribunale del Riesame per il consigliere Roberto Bardelli. Il fascicolo ha avuto origine, come è noto, dalle indagini sull'altra partecipata alla Coingas e le consulenze da 400 mila euro che sarebbero state elargite a due studi professionali. L'inchiesta Multiservizi vede indagati il presidente della Multiservizi stessa, Luca Mendola, il presidente di Arezzo Casa, Lorenzo Roggi, ed il consigliere comunale, Roberto Bardelli. Il caso ruota intorno alle registrazioni fatte, da chiarire ancora a quale fine, dall'ex presidente di Coingas, Sergio Staderini, nella stanza del sindaco, circa dialoghi avvenuti con Bardelli e Roggi ed un presunto aiuto promesso da Mendola a Bardelli mai concretizzatosi per l'accensione di un mutuo.